buongiorno a tutti ragazzi oggi parto subito in quinta perché so già che mi arrabbierò in queste pagelle le ultime pagelle della juventus del 2021 chiudiamo un anno veramente tragicomico in cui è successo veramente tutto sia dentro che fuori dal campo un anno di ridimensionamento ma di questo parleremo sicuramente in altri video che vanno un po a riassumere quello che è stato tutto il 2021 soprattutto perché questo ci interessa la prima parte di stagione 2021 2022 buongiorno buongiorno a tutti e un mi piace come sempre a questo video per supportare la creazione dei contenuti sul canale oggi vi faccio una richiesta siamo sotto natale natale il 25 di dicembre quindi vi chiedo almeno 2500 like per le pagelle di juventus cagliari 2 a 0 una partita che c sulla carta poteva sembrare scontata ovviamente ma che conoscendo questa juve di scontato c'è poco e niente one football gratis qui sotto in descrizione da scaricare per dare un'occhiata al nostro calendario di gennaio metterci le mani nei capelli in faccia e pensare che finalmente il calcio mercato sta aprendo e che quindi qualcosa da lì arriverà arriverà vero se arriva bene battuta bruttissima one football sotto in descrizione perché mi arrabbierò tantissimo perché solitamente io lo dico sempre quando ragiono su una partita e quando dico non abbiamo giocato bene abbiamo giocato male io non parlo di quel a livello estetico di quello che ho visto di quello che i miei occhi hanno percepito no non è quello che mi interessa in una partita di calcio il bello è soggettivo cioè questo c'è poco da fare io ragiono sui dati oggettivi e perché perché sono quelli che ti permettono di fare l'analisi più precisa possibile allegri voto 6 ieri qualcuno mi ha detto ma come luca non ti è piaciuta la juve invece secondo me ieri abbiamo giocato meglio rispetto ad altre partite ragazzi il punto è tutto qui perché sei ad allegri e non di più perché è l'ennesima partita stampino fatta con stampino un copia e incolla di quello che abbiamo visto e ribadisco non sotto il profilo estetico di quello non me ne frega niente il punto è che questa juventus adesso sta anche migliorando sotto un certo punto di vista e cioè essere più cinica perché solitamente ci vogliono 7 8 palle gol per farci segnare l'1-0 invece ieri siano lo troviamo abbastanza presto così come avevamo fatto col bologna non la chiudiamo non la chiudiamo è incredibile non la chiudiamo il cagliari per gran parte della partita anche sull'1-0 per noi ha completamente rinunciato a giocare poi in alcune spunti in alcune fiammatte si è ritrovata la possibilità di andare e ci è arrivato in un paio di occasioni che sono state le uniche due occasioni limpide del cagliari ma nel momento in cui l'altra squadra in difficoltà è sotto in casa tua è una squadra da rallottare tra cessione in difficoltà e rinuncia a giocare perché il pensiero è difendo l'1-0 fino al novantesimo e poi vedrai che con un episodio se capita prendo l'1-1 tu gli devi dargli il colpo del ko io vedo la juventus un po come un pugile che continua a prendere un sacco di cassotti ma che non va mai al tappeto ma che se gli arriva quel cassotto fatto bene al tappeto ci va e se invece riesce in un qualche modo a tirar lei un ultimo cassotto allora vince il match vince il round vince la partita non va bene così ma è per questo che vi dico tante volte non mi piace vedere la juventus che sull'1-0 contro il cagliari allo stadium non vada ad attaccare a distruggerlo il cagliari cosa che invece ho visto sia col genoa che con la salernitana più col genoa che con la salernitana dove la salernitana tra l'altro trova quel palo che poteva riaprire la partita e quello è stato il punto di non ritorno come era successo col venezia perché col venezia è successo la stessa cosa quindi salernitana genoa anche se il genoa non ha mai tirato in porta ma il modus operandi la partita è stato lo stesso venezia dove non ti è andata bene bologna e cagliari le stesse identiche partite tutte le volte salernitana genoa venezia bologna cagliari cinque l'ultime cinque partite di serie a tutte le volte abbiamo visto la stessa identica cosa aggiungo anche con l'alazio che arrivava prima dell'atalanta quindi sono le ultime sei su sette partite vuol dire che inizia a essere una costante la juventus è questa squadra qua va in vantaggio e poi è incapace di chiudere le partite ed è su questo che deve lavorare allegri ed è per questo che non gli do un voto più alto ma banalmente il 6 che rasenta la sufficienza dalla sufficienza puoi sempre migliorare certo puoi anche peggiorare ma è ovvio che devi andare in su ad oggi la classifica non è nemmeno così tremenda io rimango della mia idea non so se avete visto il video lo lascio qui sopra nelle schede la mia posizione rimane questa lotta champions zona champions utopia non ci credo ma non non ci credo perché la classifica mi imperisce di crederci e vi spiego le ragioni in quel video lì chesni 7 7 lui ieri ha detto parata da 6 tech parata da 6 da non prendiamoci in giro tech tech hai fatto una parata da supereroe o vagamente non so se anche voi ricordate ovviamente dinamiche diverse quella di buffon su un zidane nella finale del mondiale 2006 ripeto dinamiche diverse difficoltà diversa ma la prima cosa che ho pensato vedendola in diretta è stata quella perché 7 scesni per il discorso che facevamo prima pochi secondi fa la juventus è una squadra che va sull'uno a zero e poi è incapace di chiudere la partita anzi a volte accetta anche di abbassare il ritmo se l'altra squadra abbassa il ritmo però poi cosa succede che il cagliari a due occasioni clamorose la prima ad albert sbaglia da un metro la seconda c'è scesni che deve fare quella parata lì che vale tantissimo pesa tantissimo perché quella lì poteva essere la parata del colpo da ko e ricordate il paragone con il pugile di pochi secondi fa quella ma scesni la tira fuori quella parata è di una difficoltà incredibile non solo per come è arrivata ma per la testa che ha la juventus quando gioca quest'anno quella parata lì evita l'uno a uno che poteva essere il gol di aramo a venezia ti evita quella situazione in cui poi il cagliari va 11 dietro nel pallone e tu magari il gol non lo fai perché il 2 a 0 lo fai su una ripartenza perché il cagliari stava cercando di trovare il pareggio negli ultimi minuti di gioco quella parata lì quella parata lì vale la partita quella parata lì vale tre punti perché la juventus è questa è questa qui è per quello che vi dico sempre chi se ne frega se gioca bene se gioca male può anche giocare male esteticamente è una roba soggettiva ma se poi le occasioni da chiudere la partita non ce le hai o accetti di non averle e poi sei costretto a sperare nella fortuna che d'alberi ti butti fuori la palla e nella super parata di cesni perché ha fatto una super parata da tre punti sono quelle le cose che mi fanno arrabbiare per quello che ieri sera non ero contento perché è stata l'ennesima partita in cui palle gol pulite non ne crei accetti di abbassare il ritmo e per poco non andava a fare la frittata la juventus anche ieri sera e quindi penso proprio che sceso nel sette se lo meriti in pagella bonucci ed elit non una partita allucinante è stata molto più combattuta quella di bologna anche in mezzo alla nebbia contro contro arnautovic ieri il cagliari ha accettato semplicemente ha accettato la partita la partita che doveva fare quindi bonucci ed elit 6 6 perché non è il cagliari che ha fatto in mezzo il cagliari c'è stato il colpo di testa appunto di joao pedro dove si esalta cesni ed albert che sbaglia ma nasce tutto dagli esterni e qui ci arriviamo in mezzo mezzo quadrado 5 mezzo io ho visto tante pagelle positive di quadrado devo dire la verità non mi ha convinto al 100 per cento è vero come vero che il cross per moise kens un colpo di testa che poi becca il palo dopo primi secondi è proprio di quadrado è vero che quadrado di cross in mezzo ne ha messe per tutta sera però io ragiono sul fatto che quell'occasione di dalbert clamorosa che poi ci arriviamo a parlare del vero grande colpevole quadrado si fa tagliare fuori in una maniera quasi imbarazzante passatemi il termine quella diagonale lì quadrado decide volontariamente di non difenderla più la posizione sull'uomo è andata bene è andata bene e poi non il solito quadrado ma anche col bologna avevano detto non era stata una partita entusiasmante dal punto di vista della prestazione di quadrado poi la giocata individuale che va a creare il presupposto per chiudere la partita beh quella di alto livello e quella va sottolineata un po il discorso che avevano fatto per bernardeschi che non aveva fatto una bella partita ma l'assist che va per l'1 a 0 di morata è un assist importante e che quindi fa andare su la valutazione il voto in pagella che ripeto per me conta solo fino a un certo punto mi piace di più parlarne e quindi anche ieri sera quadrado non mi è sembrato il miglior quadrado per fortuna non è stato ammonito perché era diffidato e quindi ci sarà contro il napoli 5 e mezzo per quadrado invece per alexandro mi dispiace signori mi dispiace cioè mi dispiace perché ormai mi siedo qui e il voto di due o tre giocatori sembra uscire da solo sembra scriversi da solo 5 5 ma ma non è cattivere nei confronti alexandro non è questo non c'è due occasioni avuto il cagliari due occasioni da dove nascono le due occasioni dalla destra d'albert sbaglia da pochi passi perché perché delite esce non prende la palla alexandro non si sa cosa stava guardando forse se c'era qualcuno in tribuna stava contando i tifosi della juventus stava contando i tifosi del cagliari c'erano 11.000 persone allo stadio alexandro lì riserva te lo dicevo io lì che guarda non capisce poi l'han già sorpassato fa la rincorsa dritte va a far la diagonale però ormai la frittata è fatta perché bonucci va su un uomo quadrado perde quell'altro come dicevamo prima ma alexandro alexandro non si è reso conto che l'azione si stesse sviluppando dalla sua parte parte in ritardo non vede partire il giocatore non capisce che deve segure il pallone seconda azione quella triangolazione del cagliari in cui veramente alexandro sembra che gli stiano facendo il torello per strada ancora una volta dalla destra ancora una volta dalla sua zona e poi si esalta scesni due occasioni ha avuto il cagliari due due in 90 minuti due da dove nascono da lì dalla sinistra e sarà una coincidenza sarà una coincidenza ma tutte le volte che gioca pellegrini è un'altra storia su quella fascia lì è quando gioca alexandro due occasioni per il cagliari due che vengono da lì non si può essere contenti per le prestazioni di alexandro oltre al fatto che ribadisco non sembra mai metterci della voglia ma è incredibile questa cosa o alexandro alexandro voglia stai giocando per la juventus cazzo poi mi fa ridere no mazzarri nel post partita dato che il cagliari ha avuto due occasioni che ha detto siamo stati sfortunati perché d'albert sbaglia per sfortuna non perché non è stato bravo lui per sfortuna sbaglia d'albert siamo stati sfortunati perché gli episodi ci sono andati contro perché anche il colpo di testa di joao pedro è sfortuna non bravo scesni che la para è sfortuna perché nel calcio non c'è giocare bene giocare male i giocatori che fanno la parata fanno il colpo no non c'è la bravura dei giocatori c'è la sfortuna e basta e mazzarri ha detto siamo stati sfortunati perché potevamo pareggiarla e poi potevamo addirittura vincerla già è proprio la partita che ho visto io ieri sera il cagliari è andato a lì lì dalla vittoria mazzarri preciso preciso e adesso metto insieme bentancur e rabiot perché anche qua sembra quasi che si scrivano da sole no le pagelle sono da 5 e mezzo non sono state delle prestazioni di livello è vero qualcosina in più rispetto a tan ma non ci siamo non ci siamo che cosa è andato davvero ditemi una volta per rabbio una volta per bentancur per cosa ve li ricordate ieri sera nella partita di ieri sera per quale momento vi ricordate uno dei due vi sfido io non non ricordi di alexandro ce li avevo erano negativi infatti si becca al 5 qua sembrano sempre le stesse prestazioni che ci fanno non si fanno si fanno non si fanno basta l'indispensabile ci metto proprio il minimo che mi fanno incazzare da porco perché giochi nella juventus ma puoi scendere in campo e dopo 90 minuti per ventancur e 45 minuti per rabbio non ricordarti niente di quello che è accaduto non dare al tifoso un ricordo a cui aggrapparsi per la prestazione io sono impressionato da questa cosa tutte le volte tutte le volte mi ritrovo a dire boh 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 voto boh mettiamo il voto boh problematici sarà il voto boh artur 6 anche qua non la partita più bella del mondo però il pallone lo tiene bene cerca anche in verticale un paio di volte una volta l'aveva torbologna due volte la batteri col cagliari stiamo già migliorando però si vede la differenza incredibile della gestione di locatelli gestione di artura anche quando puoi entra locatelli in due volte ti fa la sulla sulla destra una copertura del pallone importante recupero il pallone importante una gestione il pallone importante ti fa vedere veramente che ad oggi locatelli è due spalle sopra artur non è sufficiente artur però è da sei da compitino ha fatto proprio il compitino e invece sei a mezza mckenny perché ragazzi in 45 minuti di rabbio li peso con i 45 minuti di mckenny non c'è neanche da mettere i 45 minuti di mckenny li peso con i 90 minuti di bentancur non c'è trippa per gatti perché perché uno che entra con quella voglia con quella determinazione con quella grinta andando a creare la giocata allargando il gioco crossando inserendosi cercando la palla è questo è o è quello non ha fatto niente di spettacolare mckenny ma è entrato dentro il gioco è entrato dentro la costruzione della manovra è entrato dentro le azioni gli altri si sono sempre limitati a distruggerle ed è vero che sono quei giocatori lì ma è anche vero che se giochi titolare nel centrocampo della juventus tu non puoi avere solo quello ce l'hai e vabbè ho capito iniziamo un processo di miglioramento rimarremo per sempre giocatori che hanno solo quello e che quindi quando c'era costruire no io me ne tiro fuori perché non costruisco invece mckenny 45 minuti è entrato o si è vista la differenza ragazzi si è vista la differenza c'è poco da dire bravo questo e passiamo al got federico bernardeschi vabbè di bernardeschi ho già parlato nel video a caldo post partita ne ho parlato su twitter ne ho parlato su instagram ne ho parlato anche qua su youtube nei post della sezione community ieri ho fatto un tweet su bernardeschi ecco che cosa ho scritto ecco invece che cosa ha capito la gente ragazzi qui c'è uno che dice che bernardeschi più forte di del piero vuole rinnovarlo 78 milioni di euro all'anno vuole dargli la 10 la fascia di capitano la titolarità indiscussa si rinnovo del contratto a vita poi è sessualmente attratto dal berna ragazzi su bernardeschi c'è poco da dire c'è da fargli complimenti c'è da battergli le mani come hanno fatto ieri l'uscita dal campo perché perché in questo periodo e soprattutto in questa prima parte di stagione questa prima parte di stagione soprattutto in questo periodo sta andando bene c'è inutile che ci giriamo intorno è però sai qui la tutti i discorsi li potete fare non c'è problema condivisibili ma permettetemi di dire che adesso bernardeschi si merita i complimenti si merita il bravo perché è così tutto il resto chi se ne frega parlate del momento storico adesso e bernardeschi adesso sta rendendo sta performando adesso bernardeschi è uno dei migliori giocatori della juve e ribadisco probabilmente sarà l'nvp di dicembre perché se lo merita perché sul campo ha dimostrato che poi ieri sera il primo assist non è assist perché voleva tirare in porta quindi non penso che verrà contato nella statistica come probabilmente non è stato contato nemmeno quello col genua però sono altre due azioni che nascono dal piede di bernardeschi dalla giocata di bernardeschi quel famoso rischio la giocata che io stesso è io stesso avevo perculato invece eccoci qua è eccoci qua a capire che forse un fondino di verità un pelino di verità in quella affermazione c'era e soprattutto il gol soprattutto il gol che mancava dal 26 di luglio del 2020 quindi il giorno dello scudetto l'ultimo scudetto la il gol scudetto l'ha segnato bernardeschi nell'anno di sare l'ultimo scudetto che abbiamo vinto storicamente alla firma di bernardeschi nel giorno dello scudetto inchinatevi davanti a queste informazioni inchinatevi e soprattutto quando è che fa gol poi bernardeschi il 21 dicembre 2021 se vi dico 21 dicembre cosa mi viene in mente è 21 invertite le due cifre 21 12 12 21 21 dicembre 2012 mai avevano predetto la fine del mondo fine del mondo che non è arrivata ma dopo nove anni il gol di bernardeschi chiude juventus cagliari quindi mai ha probabilmente avevano ragione e avevano assolamento invertito le due cifre bravo berna 7 in pagella kuleseschi 6 e mezzo anche a kuleseschi un altro dei subentranti oh finalmente si possano dire ste robe che tutte le volte che mettiamo su i giocatori poi sembrano che che vadano a fare un picnic no mckenny e kuleseschi sono entrati bene kuleseschi fanno giocata incredibile sul gol di bernardeschi veramente un bellissimo assist ma anche la giocata la preparazione all'assist è di grande livello bravo kulu oh queste sono le cose che voglio vedere entri ai 10 15 20 minuti giocali fino allo stremo delle tue forze devi bisogna entrare nella partita anche con i cambi diventare decisivi con le giocate anche con i cambi eccola qua bravo kuleseschi 6 e mezzo morata 5 5 mi dispiace ma per morata potrei fare esattamente coppia in colla del ragionamento che mi ha portato a dare 5 a che nella scorsa partita e cioè lì largo che va bene che lo può fare indubbiamente sacrificio quello che volete ma se sei un attaccante della juventus non può essere solo quello ieri avevo la netta sensazione che se arrivava la palla morata se arrivava la palla che ne arrivava bernardeschi bernardeschi poteva inventare qualcosa gli altri due no gli altri due no perché dovevano cercare di fare altre cose quindi cercare di finalizzare e poi torniamo sempre lì alvaro morata è un giocatore molto discontinuo che magari ti fa il gol e poi non te lo fa e poi non te lo fa non te lo fa non te lo fa e poi te lo fa te lo fa te lo fa e poi non te lo fa 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 quindi è quello lì alvaro morata è quello lì poi ieri è stato chiesto di giocare più largo perché non riempiva l'area di rigore dopo un secondo che ha fatto il cambio ken ha fatto gol e quindi morata l'abbia lasciato fuori dall'area ma non è mai entrato nella partita anche l'unico tiro che fa mi ricordo quello sul bel passaggio di mckenny mi pare dove morata poi fa quel doppio passo e vuole tirare di sinistro insomma se devi valutare la prestazione dell'attaccante è da 5 se dobbiamo parlare della generosità alvaro ne ha da vendere però 5 ken devo dire la verità nonostante il gol poteva fare il gol del 1 a 0 sul colpo di testa poteva fare un altro gol pochi istanti dopo sempre su quell'azione ma la stoppa e la manda in kazakhistan fa il gol ed è bravo è per quanto la juventus sia fortunata con quel gol e per la dinamica fortunosa della deviazione di bernardeschi che voleva tirare in porta ken è bravo a metterci la testa a farla spizzata perché voleva indirezzare lì però non una gran prestazione lo stesso è pronto è vero ha riempito meglio l'area di rigore di rispetto a morata sì questo sì e ve ne dico un'altra è ora che moise sta iniziando ad entrare nel momento in cui bisogna valorezzarlo che l'hai pagato è inutile che ci prendiamo in giro è obbligo di riscatto sono 38 milioni di euro è giusto che inizi a giocarne di più rispetto ad alvaro è giusto così è giusto così non dico che alvaro non le debba giocare dico che un giocatore che è tuo e ha 20 anni e lo pagherai un sacco di soldi perché sei obbligato perché hai deciso di comprarlo deve giocare di più rispetto a un giocatore che non è tuo che probabilmente non riscatterai che a giugno andrà via non è che ci sia tutta sta differenza è vero morata ha segnato di più è vero ha giocato anche più minuti giocato anche più minuti quindi io andrei a insistere su ken ma non mi è piaciuta la prestazione di ken di ieri cioè salvo veramente poco però vanno formati cioè sti ragazzi vanno formati poi ovvio che se arriverà un centravanti a gennaio e anche lì moise sarà quello che dovrà magari subentrare al centravanti che si spera possa risolvere alcuni problemi della juve io però vedo sempre più lontano alvaro dai gradi di titolare o dei gradi di giocatore che farà tanti minuti la prestazione che mi è piaciuta è da sei più però è qualcosa in più rispetto al 5 di bologna l'altro giorno segno che forse davvero si trova meglio giocare dentro l'area di rigore io questo ancora non ve lo so dire per il tridente che avevamo ieri che non mi lasciava troppa fantasia e anche forse per il centrocampo che avevamo ieri che non mi lasciava troppo tranquillo questo 2 a 0 con con il cagliari io me lo porto a casa me lo porto stretto soprattutto perché poi l'atalanta fa 0 0 col genua la dimostrazione che sì le partite semplici sulla carta esistono ma che poi in campo è un altro discorso perché il genua io mi ricordo quando abbiamo giocato col genua mi si diceva non bisogna esaltarsi bisogna vincere 10 a 0 l'atalanta che è stata esaltata giustamente per tutto questo tempo perché comunque stava facendo robe importanti ora è a 4 punti da noi e ieri ha fatto 0 a 0 col genua e anche l'1 a 0 che abbiamo fatto con la roma e no perché è solo 1 a 0 non va bene bisogna fare di più l'atalanta ha perso 4 a 1 con la roma c'è ovvio che se poi tutte queste cose le pesi le metti in un calderone la differenza c'è noi nelle ultime due partite con bologna e cagliari abbiamo fatto 6 punti l'atalanta ne ha fatto 1 con roma e genua che sono squadre che l'atalanta sulla carta doveva disintegrare però sulla carta un conto il campo è un altro poi siamo ancora 4 punti dietro il che significa che mannaggia io penso non è che penso ad acquir abbiamo perso ripartite punti lasciati per strada tre partite immaginatevi tre partite che poi ribadisco se ma non esiste il campo è un'altra cosa rispetto alla carta però i due punti lasciati a venezia i due punti con l'udinese che ti sei fatto da solo sono quattro è il gol all'ultimo secondo che prendi col sassuolo e sono cinque non partito partite che avevi giocato nelle quali potevi fare molto meglio che potevi chiudere quella di venezia senza prendere gol come ieri scesni ha fatto quella super parata per quello che si becca sette i due punti con l'udinese dove lì invece è stato scesni molto probabilmente a toglierceli ma anche il nostro atteggiamento non era stato dei migliori infatti ne avevo parlato all'epoca nelle pagelle partite che avevi chiusa e che poi ti sei riaperto da solo quattro e il gol col sassuolo all'ultimo secondo non sto parlando di robe allucinanti sono cinque punti sei un punto davanti all'atalanta con quei cinque punti cinque punti ripartite che hai buttato via tu tu juventus e sicuramente andavi a farti le vacanze di natale con un'altra testa un'altra volontà un altro umore invece siamo qui che è vero che stiamo rincorrendo ma cinque punti buttati via sono quelle cose lì che bisogna migliorare sono quelle robe lì insieme a tante altre perché ancora non si può essere soddisfatti di questa juve a quei cinque punti mamma mia quei cinque punti ve l'avevo detto che mi arrabbiavo perché sapevo che sarebbe finito così il video le pagelle ad andare ad analizzare la classifica e quei cinque punti lì quei cinque punti lì poi i due con l'inter che non prendi due col milan che non prendi tre col napoli che non prendi mi va bene addirittura perdere con l'empoli e con la sferona mi va bene mi va bene guarda vi dico che mi va bene ma quei cinque punti lì quei cinque punti lì nati da situazioni in cui vai in vantaggio o dal non prendere gol all'ultimo secondo 1 a 0 col venezia chiudila santo dio chiudila 2 a 0 col udinese porca vacca ma fai quei tre punti lì sei 2 a 0 col sassuolo stai pareggiando un secondo dalla fine porca vacca non vi sto chiedendo chissà che cosa ma quei cinque punti lì pesano come macini e per quello che vi dico sempre la prestazione sì certo bisogna guardarla bisogna migliorare bisogna crescere ma poi il risultato santo il signore carta canta quei cinque punti lì quei cinque punti lì e niente ci salutiamo così incassati come delle iene ciao buon natale